Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI, dove ci sono rallentamenti per lavori tra Ponte d'Era Est, Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione Livorno e tra San Miniato ed Empoli Ovest in direzione Firenze. Il traffico invece per il momento scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale Toscana. Si ricorda che la statale 330 è chiusa in località Albiano Magra, nel comune di Aulla in provincia di Massa Carrara a causa del crollo del ponte sul fiume Magra. Il traffico è deviato con indicazioni segnalate in loco. Sulla strada regionale 206 è sempre chiuso il ponte sulla Fossa Chiara in località Arnaccio per lavori della provincia di Pisa. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!